buon di buona gente sono luigi in arte lusio anzi professor lusio perché finalmente per la gioia di quasi tutti quelli che mi seguono riprendono anche le lezioni di storia e iniziamo con questo che sarà come avevo già anticipato il primo capitolo di una sorta di trilogia crossover nel senso che due video compreso questo saranno dedicati a una lezione di storia e il terzo conclusivo sarà uno dei video in cui recito un piccolo esperimento che voglio fare che potrebbe anche non andare in porto diciamo voglio vedere l'effetto finale se poi non dovesse piacere mi metterò tutto quanto nel dimenticatoio e chi si è visto si è visto ce l'avevo provato allora bando alle ciance oggi di cosa vi parlo oggi vi parlo di una storia qui sono particolarmente affezionato per vari motivi motivi che vi spiegherò a fine video quando tratterò l'argomento cultura generale è una storia piuttosto difficile da trattare perché è un quel tipo di storia in cui realtà e finzione continuano tuttora andare a braccetto io persino nella ricerca delle fonti che sono state un po difficili da trovare non sono riuscito a trovare dei punti in comune molte volte sembrava che persi sembra che persino gli storici persino tutt'oggi hanno delle difficoltà a separare l'alone di leggenda l'alone di teatralità che ha avuto che ha preso che ha contornato questa storia nel corso dei secoli tra quelle che sono le fonti più accreditate è molto difficile per cui persino oggi molti storici di rinomata capacità dimostrano di avere anche loro delle difficoltà nel trattare questo personaggio che non è un personaggio principale il personaggio di cui vi parlerò è quel tipico personaggio secondario che vediamo fare capolino nelle storie di personaggi principali oggi vi parlo infatti di don carlos infante di spagna principe delle asturie erede di filippo secondo di spagna della casata degli asburgo da molti probabilmente conosciuto principalmente per le fonti letterarie quindi i test le opere teatrali che hanno ispirato la sua vicenda la più famosa fra tutti è sicuramente il don carlos di schiller ma anche un prodotto totalmente made in italy ovvero la tragedia filippo di vittorio alfieri per non parlare poi dell'opera omonima don carlo di giuseppe verdi ispirata all'omonima opera teatrale di schiller ma prima di arrivare alla leggenda del don carlos c'è don carlos realmente esistito e la sua storia è l'esatto opposto da quello che uno si aspetta da chi ha conosciuto questo tormentato principe quasi sulla falsa riga di amleto in contrasto col padre dittatore con tan questo principe bellissimo e dannato tormentato da un amore impossibile trascinato da un'onda di ribellione di rivoluzione desideroso di dare agli altri al popolo la libertà esattamente l'opposto ossia purtroppo questo è il difetto del calare una storia cinquecentesca nell'ottica illuminista del settecento beh ma questi sono argomenti che tratterò in corso d'opera iniziamo come vi ho detto da don carlos personaggio a cui come vi ho detto sono particolarmente affezionato forse a torto allora come ho detto don carlos era figlio di filippo secondo di spagna ma all'epoca della sua nascita filippo non era ancora filippo secondo era l'erede di carlo quinto d'asburgo l'imperatore sul cui regno non tramontava mai il sole certo gioca forza perché teneva le colonie in america se no se non aveva quelle colonie in america col cavolo che non teneva un impero dove non tramontava il sole aveva un impero come tutti quanti gli altri vabbè ti piace vincere facile ponci ponci papapom va bene i corsi e ricorsi storici allora carlos nacque l'otto luglio del 1545 all'epoca suo padre filippo era poco più che un adolescente aveva 16 anni e stessa età della sua sposa la Maria Emanuela Daviz che non solo era la sua sposa ma era anche sua cugina di primo grado sua cugina carnale essendo la madre di Maria Emanuela Caterina d'Asburgo sorella di carlo quinto padre di filippo il loro non era stato un matrimonio d'amore era stata una semplice unione dinastica tra i due sposi quindi non è che ci fosse quel gran legame non è che ci fosse nemmeno questo sentimento di affetto anche perché lo stesso filippo almeno per questa prima fase della sua vita era molto freddo molto rigido aveva molte difficoltà ad esprimere i suoi sentimenti e a maggior ragione se poi aveva a che fare con una sposa bambina con la quale aveva avuto poco modo per interagire stessa cosa anche Maria Emanuela ricordiamoci sempre non è che l'amore fosse contemplato in queste unioni se veniva l'affetto erano già fortunati di per sé purtroppo però questa unione già breve di suo non era destinata a durare infatti il 12 luglio pochi, a malapena una settimana dopo la nascita di Carlos sorsero delle complicazioni post partum e la povera Maria Emanuela ancora giovanissima morì lasciando vedovo un ancora giovanissimo filippo adesso alle prese con il difficile compito che aveva di succedere a suo padre Carlo che intanto gli stava dando incarichi titoli diciamo lo stava un po' facendo allenare per quando avrebbe dovuto prendere il suo posto come imperatore del Sacro Romano Impero d'Asburgo possiamo quindi ben immaginare che Filippo non avesse tempo per concentrarsi sul suo figlio letto neonato al quale era stato dato il nome di Carlos in onore del nonno Carlo l'imperatore Carlo V forse l'unica persona che Filippo amò veramente in tutta la sua vita o che infatti per comprendere magari il rapporto difficile che sarebbe sorto tra Filippo e Carlo bisognerebbe partire proprio dal rapporto tra Filippo e suo padre Carlo un rapporto in cui il figlio idolatrava e temeva il padre questo padre così potente nel ruolo ma così debole apparentemente nel fisico così distante così devoto cattolico e al tempo stesso un grande peccatore nell'ottica cinquecentesca del termine ovvero infatti una figura molto contraddittoria che appunto avrebbe reso Filippo l'uomo che era molto contraddittoria anche lui nei rapporti con i membri della sua famiglia ma non voglio correre troppi tempi sennò rischio di incasinarmi con gli argomenti allora quindi possiamo già vedere che nella sua prima infanzia Carlos risente della totale assenza della madre che ovviamente che per forza di cose purtroppo era morta ma anche del padre il padre distante per gli incarichi che gli derivavano dalla sua carica di erede e soprattutto perché dopo poco fu spinto al matrimonio dal padre con in seconde nozze con la come non mi la 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 cugina di secondo grado sì più o meno siamo lì è molto più anziana di lui Maria prima Tudor ma di questo infelice disgraziato matrimonio ho già avuto modo di parlare nel video dedicato a Maria prima Tudor quindi non non mi concentrerò troppo su quest'altro matrimonio privo di amore nel mente che Filippo cresceva a suo modo ricordiamoci che era comunque fin troppo giovane anche lui e cresceva non solo anagraficamente ma anche nei suoi incarichi e nelle sue responsabilità cresceva anche Carlos in una corte molto come quella di Spagna molto chiusa molto molto bigotta molto oscura avrebbe vissuto la maggior parte della sua storia sarebbe svolta nel palazzo dell'Escorial il palazzo in forma di graticola di San Lorenzo più un monastero più più un monastero che una reggia più una sorta di tom di mausoleo a cielo aperto più che un castello di abitato da principi e principesse re regine e quant'altro e proprio in questa corte Carlos iniziò fin da piccolo a mostrare alcuni aspetti piuttosto eccentrici del suo carattere poteva alternava momenti di ira e di rabbia inconsulti tanto da arrivare quasi a spingere giù da una finestra un ciambellano di corte alternandoli poi a momenti in cui si dimostrava il fanciullo più dolce e amorevole al mondo elargendo grandi esternazioni di affetto a molti membri del suo seguito che fossero la balia gli istituti altri istitutori i piccoli compagni di giochi ai quali veniva affiancato molte volte potevano essere figli della nobiltà della della nobiltà spagnola o anche membri della membri più piccoli della corte che alle volte venivano affiancati a lui per prendersi le sue le sue punizioni per fargli dimostrare per insegnargli fin da piccolo che lui in quanto principe era intoccabile ma al tempo stesso doveva comunque convivere col pensiero che le sue azioni avevano delle conseguenze se non su di lui ma su chi dipendeva dal dalle sue responsabilità potete già quindi immaginare questo modo di pensiero in una mente fragile che effetti poteva avere nell'età adulta ma a cosa erano dovuti questi svalzi d'umore che farebbero pensare quasi a ad un soggetto schizofrenico o bipolare non sono uno psicologo quindi non saprei bene che terminologia usare è difficile dirlo con certezza soprattutto al giorno d'oggi molto probabilmente potremmo trovare la molto probabilmente potremmo trovare la risposta nel patrimonio genetico di Carlos non dimentichiamo che la bisnonna di Carlos la madre dell'imperatore Carlo V era Giovanna di Castiglia conosciuta da tutti come Giovanna la pazza che beh si dovrebbe fare un video una video lezione a parte solo su di lei probabilmente lo farò perché pure Giovanna è un personaggio molto interessante di cui si dovrebbe parlare parecchio molto vi dirò soltanto che è un po' difficile far risalire il la risposta al patrimonio genetico direttamente da Giovanna di Castiglia anche perché anche se non fu proprio un perfetto esempio di equilibrio mentale Giovanna di Castiglia non fu probabilmente pazza come la leggenda sulla leggenda nera sotto attorno a lei ci ha tramandato probabilmente aveva anche lei certi certi deficit mentali derivati probabilmente da una commistione di sangue troppo stretto nelle unioni ma abbiamo molti episodi della sua vita in cui come anche Carlos la vediamo alternare momenti di lunaticità a momenti di perfetto equilibrio di sé ma come vi ho detto magari parlerò in separata sede di Giovanna di questo aspetto molto particolare della sua vita oppure un'altra risposta forse molto più plausibile che possiamo trovare in questa pazzia in questa follia di Carlos risiede probabilmente nell'endogamia i suoi genitori come vi ho detto erano cugini primi e l'endogamia si sarebbe mostrata in forme anche molto estreme nella dinastia di Jasburgo lo vedremo stesso anche sul finire di questo video e ciò queste unioni tra parenti stretti avrebbe portato alla nascita di rappresentanti di questa casata che portavano i segni di questi matrimoni tra consanguinei sia nella mente che anche nel fisico e parlando dell'aspetto fisico sembra che anche Carlos non fosse estraneo a certe deformità fisiche a quanto pare aveva una spalla più bassa dell'altra dando quindi l'idea di una sorta di gobba e anche il suo viso sembra sembrava a giudicare dai ritratti giunti fino a noi da mostrare una certa deformità nei tratti aveva principalmente il mento tipico di Jasburgo questo mento sfuggente il cranio sembra quasi più grosso del normale quindi già in questi tratti possiamo magari trovare una possibile risposta nel matrimonio possiamo dire quasi semi incestuoso tra suo padre e sua madre certo tra cugini primi non è definito molto un incesto però tecnicamente non è nemmeno sbagliato usare tale definizione visto che stiamo parlando di quelli che dalle mie parti nel napoletano si chiamano frat cugini fratelli cugini cioè cugini che hanno talmente tanto sangue che potrebbero essere praticamente fratelli allora però una costante in questo in questa umoralità nel carattere di Carlos è l'avversione che Carlos dimostrò sempre nei riguardi del padre ma a cosa era dovuto questo astio che assunse sempre più i tratti dell'odio puro anche a questa domanda è difficile rispondere con certezza potendo avanzare delle ipotesi potremmo farla derivare dalla stessa pazzia di Carlos o forse potremmo usare una spiegazione più più freudiana scusate ragazzi io mi sento male ogni volta che devo usare le risposte le spiegazioni di Sigmund Freud quindi potremmo magari ascriverla a una sorta di complesso edipico in cui la mancanza della madre veniva aggravata dal rifiuto del padre di dimostrare il benché minimo interesse nei confronti del figlio ma probabilmente questo è un modo di pensare troppo moderno all'epoca non c'era il concetto di genitorialità che abbiamo oggi e sebbene Filippo da giovane fosse sempre stato molto freddo come vi ho detto negli anni della maturità avrebbe mostrato non dico affetto nei confronti del figlio ma avrebbe cercato di recuperare un rapporto che non avevano avuto quando Carlos era ancora un bambino e se non mostrò affetto almeno cerco sempre di coprire e di proteggere il figlio quando le sue stravaganze si sarebbero aggravate e ci fu un episodio in cui vediamo proprio uno spartiacque tra il Carlos che è semplicemente un po' sulla falsa riga della sua bisnonna quindi alterna momenti di euforia momenti di calma momenti di eccessi di ira momenti di forte affetto nei confronti del suo entourage con questo episodio avvenuto a quanto pare nell'università di Alcalade e Narets se non sbaglio e spero di averlo pronunciato anche bene Ilaria se mi stai guardando come spero che tu stia facendo visto l'argomento che dovrebbe essere di tuo interesse correggimi ti prego qualunque cosa io abbia sbagliato correggimela tu sai quanto io ci tengo a venire corretto quando sbaglio e mi fido soprattutto se a correggimi sei tu che so che ne sei più di me scusate metto nelle mie lezioni di storia faccio sempre questi dialoghi a distanza con Diana 92 4 altra utente che vi consiglio sempre di andare a seguirla sul suo canale di storia che è bravissima comunque per ritornare alla nostra storia un episodio avvenuto all'università di Alcalade Alcalade Narez vabbè non mi ci apre proprio più di tanto scusate le mie pronunce sono pessime comunque cosa accadde qui nell'inseguire una domestica o una dama o una tantesca comunque a inseguire una sottana perché ragazzi possiamo essere pazzi di me insani di mente o sani di mente ma quando raggiungiamo l'età dell'adolescenza bene o male finiamo sempre solo per pensare a quello diciamocelo concretamente una cosa in comune quando sei adolescente ti si risvegliano certi bollori e certi bollori che vorresti acquietare un poco a seconda del fatto che dei gusti sessuali quindi che sia una sottana che siano un paio di brache alla fine tu ti ritrovi a correre dietro queste sottane o dietro queste brache e corri e corri alla fine finisci per inciampare al giorno d'oggi finiamo come nel mondo di patti che inciampi e inciampi sul principe azzurro all'epoca invece inciampi dalle scale più concretamente sbatti la testa in malo modo e finisci praticamente in coma sì perché questo accade nell'inseguire una una dama lungo una scalinata Carlo si prese una brutta caduta e batte talmente tanto la testa che si ritrovò praticamente per molti giorni quasi in uno stato comatoso aveva i momenti di risveglio aveva non riusciva a vedere ha praticamente diventato cieco aveva momenti in cui mostrava proprio una paralisi completa del corpo qua proprio si vide Filippo che disperato perché comunque aveva solo queste erede al momento quindi un po' la disperazione per la perdita di un possibile erede un po' magari che iniziava a svegliarsi un po' quel suo istinto paterno ma le tentò di tutte per salvare Carlos arrivarono anche ai metodi estremi disseppellirono disseppellire il corpo la salma il cadavere insomma di Don Diego de Alcalá il santo protettore di Carlos quindi potete solo immaginare questo ragazzo in stato comatoso che viene spinto e messo accanto a questo cadavere putrescente sperando in un miracolo di una resurrezione un'intercessione di Don Diego un miracolo che non accadde e si giunse poi al metodo più invasivo ovvero la trapanazione all'epoca si pensava che un metodo che si è portato quasi fino ai primi fino quasi al novecento con il metodo della trapanazione o della lobotomia ovvero si pensava che asportare piccole parti del cranio avrebbe potuto fare bene al al cervello alla persona malata quindi e quindi gli asportarono a Carlos un pezzo triangolare dal cranio con un pezzo di cervello e miracolosamente miracoli della scienza Carlos si risvegliò ma non era più il Carlos di prima il Carlos che bene o male potevi ancora contenere no era un Carlos questo degli eccessi il principe folle della leggenda nera quindi sì da qui proprio possiamo far iniziare la storia del Don Carlos il principe folle di Spagna le cui conseguenze vedremo presto a che punto arriveranno nel mente però che questo accadeva si pensava magari anche a creare dei a instaurare qualche legame con qualche casata regnante quindi si pensava già a far a casare Carlos perché magari si pensava anche che un matrimonio avrebbe il matrimonio avrebbe potuto portare la pace e la tranquillità nel suo spirito tormentato nella sua anima nella sua mente disequilibrata si pensava che il matrimonio sarebbe potuto essere diciamo la cura definitiva quindi si erano pensati a vari di proporre le varie principesse la prima fu sicuramente Elisabetta di Valois figlia di Enrico II di Francia e della più famosa Caterina de' Medici forse la più grande regina che la storia di Francia abbia mai avuto Elisa poteva essere una scelta accorta quella di un'unione tra Carlos ed Elisabetta di Valois i due erano praticamente coetanei avevano la stessa età e per carattere Elisabetta poteva essere quello spirito adatto a calmare i tormenti dell'animo di Carlos con il suo spirito molto pacato e socievole ma i risvolti politici decisero diversamente con la pace di Catoca a Bresì che avrebbe diciamo ridisegnato i confini tra Spagna e Francia si pensò che fosse molto più vantaggioso forse possiamo vedere la longa manus dei sovrani di Francia che più che avere una figlia promessa sposa all'infante di Spagna avrebbero preferito direttamente una figlia regina di Francia regina di Spagna e quindi si decise per questioni politiche di rompere il fidanzamento tra Carlos ed Elisabetta e proporre Elisabetta a quello che sarebbe dovuto essere suo suocero ovvero lo stesso Filippo II Filippo che adesso è ufficialmente Filippo II di Spagna perché intanto Carlo V aveva poi abdicato in favore del figlio e si era ritirato nel convento di San Giuste dove poi sarebbe morto pochi anni dopo quindi al momento quindi Filippo è ufficialmente imperatore del Sacro Romano Impero sovrano di Spagna e quindi il fidanzamento tra Carlos ed Elisabetta venne sostituito dal fidanzamento tra Elisabetta e Filippo e andò in Buon Porto e così Filippo si sposò che all'epoca come devo fare questi continui rimandi è rimasto vedovo della povera Maria prima Tudor si potesse sposare in terze nozze con la giovane la giovanissima Elisabetta di Valois che aveva una ventina d'anni meno di lui all'epoca Filippo quindi non era il vecchio sovrano cui siamo abituati a immaginare era semplicemente un uomo maturo di 40 anni quindi e bisogna dirlo dopo le prime due unioni in cui aveva prevalso sempre la freddezza la mancanza di amore con questo terzo matrimonio Filippo si dimostrò per la prima volta forse un marito buono e amorevole non possiamo dire con certezza se amò davvero come possiamo di un amore che possiamo intendere oggi con l'ottica moderna la piccola sposa però le dimostrò grande affetto grandi premure fu veramente uno di quei pochi possiamo dire che fu uno di quei matrimoni organizzati con fini politici ma che col seno di poi si dimostrarono matrimoni felici infatti Elisabetta alla corte di Spagna disse praticamente felice e serena diede al marito prima due figlie due principesse e anche il rapporto e anche il rapporto con Carlos fu veramente un buon rapporto anzi si può dire che Elisabetta portò alla grigia in nera corte di Spagna una ventata di aria fresca molto francese e anche il rapporto tra lei e Carlos sebbene sarebbe potuto essere un rapporto tra fidanzati prima marito e moglie dopo adesso si trovava ad essere un rapporto tra matrigna e figliastro anche se è un po' difficile immaginare questi due ragazzi della stessa età come una matrigna e un figliastro però possiamo dire che furono legati da un rapporto quasi molto fraterno i due si intrattenevano molto a chiacchierare si scambiavano regali e pensieri giocavano a carte la leggenda e successive avrebbero visto in questo rapporto una sorta di legame amoroso che avrebbe avuto tragici risvolti nell'immediato futuro dei due giovani è piuttosto difficile immaginarlo per un semplice fatto in quanto regina e moglie del sovrano Elisabetta non veniva mai lasciata sola era sempre contornata da uno stuolo di dame che dovevano sorvegliare sulla sua virtù sulla sua incolumità e quindi è praticamente impossibile immaginare che tra Elisabetta e Carlos possa essersi instaurato un legame di amore adulterino un amore platonico o fisico che sia perché non sarebbe mai potuto sfuggire alla vigilanza delle dame che accerchiavano Elisabetta e poi probabilmente poi al di là anche di tutto questo ma se Elisabetta poteva avere una certa attrattiva per Carlos non lo poteva certo non poteva essere l'opposto Carlos non poteva avere alcuna attrattiva per Elisabetta con i suoi sbalzi d'umore i suoi scatti in consulti che comunque si facevano via via sempre molto più molto più presenti a mano a mano che gli anni passavano però va detto che Elisabetta mostrò sempre un forte attaccamento un grande affetto nei confronti del figliastro e poi va detto di conseguenza anche se magari Carlos potesse lasciarsi andare a qualche svenevole o cavaleresco eccesso dettato dalla sua mente esagitata nei confronti della matrigna non sembra che le mancò mai di rispetto in un certo qual modo anche perché se il fidanzamento per tornare alla questione fidanzamento sebbene il fidanzamento con Elisabetta alla fine fosse finito in questo in questo modo non mancarono le possibili altre candidate alla mano di Carlos una delle più presenti fu sicuramente Maria Stewart la giovane regina di Scozia ex cognata di Elisabetta tra le altre cose che bagliò molte volte la possibilità di sposare Carlos che le avrebbe portato l'esercito cattolico della Spagna e avrebbe potuto farla restare più tranquilla nel suo trono protestante in Scozia ma sappiamo come che piega avrebbe preso la storia di Maria Stewart non penso che debba sprecare il minutaggio per parlarvi di lei e un fidanzamento che probabilmente fu il più concreto e probabilmente quello che più avrebbe avuto possibilità di andare in porto fu quello con un'altra cugina sempre di primo grado di Carlos ovvero Anna di Bohemia figlia della della sorella di di Filippo e questo finanziamento con Anna di Bohemia probabilmente era quello su cui si investiva maggiormente su cui Carlos si investiva probabilmente molto di più ma un po' complice varie difficoltà politiche complice anche la i suo la sua follia che dava molto da pensare tanto a Filippo quanto ai genitori di Anna gli arciduchi d'Austria il fidanzamento andava sempre più per le lunghe sperando magari che si giungesse al punto in cui Carlos mostrando un equilibrio mentale più solido avrebbe potuto diciamo permettere il salto di qualità dinastico anche perché da questo punto di vista un matrimonio il matrimonio di Carlos lo avrebbe reso per certi versi più indipendente dal padre e avrebbe spinto Filippo a dargli già una certa giurisdizione su alcuni territori dell'impero cosa che però Filippo non si sentiva di fare da qui emerge il carattere prudente di Filippo che infatti sarebbe stato chiamato dalla storia come Filippo secondo il prudente anche se una parte una storiografia più severa nei suoi confronti lo avrebbe definito un sovrano troppo tendente a tergiversare a non prendere mai decisioni ma in questa scelta nel non voler affidare incarichi al figlio ci prese molto perché voi immaginate affidare una parte di un impero ma basta solido sì ma anche fragile per i dissensi interni a un principe che tutt'era fuorché equilibrato mentalmente e c'era anche questo e da questo punto di vista c'era anche una questione molto più religiosa Filippo II era uno del sovrano cattolico per antonomasia e c'era un problema ovvero una presenza protestante in alcune parti in alcune frangi del suo regno in particolare nelle fiandre dove si puntavano gli interessi di Carlos dove vigeva non solo un nucleo protestante che si opponeva al cattolico sovrano Filippo ma anche una parte di secessionisti una sorta di apparato separatista che voleva separarsi dall'impero asburgico per cui e forse nella sua pazzia Carlos mostrava un certo interesse un certo attaccamento in questa branca dell'impero questa parte separatista protestante ma non c'è l'illuminismo la ribellione al potere monarchico assolutista che gli autori del settecento vi avrebbero visto più che altro era quasi una sorta di ribellione paterna un derivato magari dalla pazzia da un odio viscerale nei confronti di un padre fin troppo assente distante ma che mai aveva dimostrato amore nei confronti di questo figlio che si era sempre sentito abbandonato la ribellione proprio di un principe che vuole di un principe folle che vuole ritagliarsi un suo regno in opposizione al padre stesso possiamo interpretarlo in vari modi fatto sta che vedendo queste premesse Filippo doveva tenere sempre più d'occhio Carlos che ormai è entrato nella sua nella sua prima seconda etade etade comunque nel primo nel secondo decennio della sua vita i vent'anni ormai dimostrava un carattere sempre più scalpitante e sempre più difficile e sempre più violento un esempio probabilmente è l'episodio che lo vide confrontarsi con Don Giovanni d'Austria fratello bastardo di Filippo II che era riuscito al di là del suo essere un figlio illegittimo del depunto imperatore Carlo V era riuscito a raggiungere molti alti gradi alla corte del fratello convinto magari di poter investire su questo zio bastardo che magari promettendogli un titolo e onori che in quanto fratello bastardo del re non avrebbe potuto avere alla corte di Spagna Carlos propose nella sua pazzia a Don Giovanni di unirsi a lui in quello che era un vero e proprio complotto ai danni di Filippo in altre parole Carlos chiese a Don Giovanni d'Austria di dargli un esercito affiancarsi a lui per deporre Filippo dal trono e prendere il potere al suo posto in questo modo Carlos sarebbe diventato imperatore al posto del padre e avrebbe diciamo fatto il bello e il cattivo tempo diciamocelo non è che fosse un piano proprio stabile non era non aveva una certa finalità per il futuro e questo Giovanni e di questo Giovanni ne era consapevole che infatti rifiutò categoricamente di prendere parte a questa pazzia e anzi disse che avrebbe riferito tutto a Filippo cosa che fece aprite il cielo scatenò la furia omicida di Carlos che si gettò contro Giovanni con un pugnale in mano pronto ad ucciderlo affinché non rivelasse i suoi piani ma da una parte c'era Don Giovanni d'Austria che era un generale era un militare era un soldato proprio fatto e finito e da una parte Carlos che era debole sia nella mente ma anche nel corpo che venne subito omesso venne subito disarmato dal solo Giovanni che fu costretto ovviamente a rivelare al fratello imperatore lo stato di salute in cui ormai versava Carlos e dopo questa scoperta Filippo non poté più mettere la testa sotto le ali non poté non poté più coprire le le follie del figlio e così si ritrovò costretto per proteggere il suo impero da questo erede al trono molto debole perché non dimentichiamoci un impero è debole se un erede che è destinato a reggerlo è debole quindi per il benessere del suo impero per il benessere dell'impero di suo padre per soprattutto il benessere dell'animo e della mente e della salute del figlio fu costretto a arrestarlo con un gruppo di soldati e di gentiluomini del consiglio di spagna del consiglio del regno durante una notte fece irruzione nelle stanze del figlio dove venero trovati sotto il suo letto delle armi che lui aveva sottratto alle armerie o che si era fatto procurare che teneva nascorse in attesa del del colpo di stato nei confronti del padre ma quanto ma come sarebbe potuto andare in porto tale piano è un po' difficile immaginarlo venero quindi trovate queste armi sotto il letto di Carlos quindi prova del suo tentativo di complotto ai danni del padre e visto ormai queste prove provanti Filippo fu costretto con la morte del cuore a deporre suo figlio a privarlo del suo titolo di infante di Spagna e tenerlo rinchiuso in una torre dell'Escorial dove sarebbe stato praticamente tenuto murato impossibilitato ad uscire sarebbero state messe delle sbarre alla sua finestra in modo che non gli saltasse in mente di gettarsi giù dalla torre e aver pure fine alla sua vita sarebbe stato tenuto chiuso a chiave non sarebbe non avrebbe avuto il permesso di uscire e a sorvegliare su di lui sarebbe stato Rui Gomez principe di Eboli uno dei membri più importanti del consiglio della corte spagnola personaggio che ritornerà poi nel video successivo ma non anticipo nulla e così inizia l'ultimo atto di questa vicenda grottesca e tragica di Don Carlos il principe folle di Spagna da qui quindi inizia la vita da prigioniero del principe Carlos una prigionia che non sarebbe durata tanto a lungo perché anche se privato della possibilità di saltare dalla finestra o di ferirsi infatti in questa sua stanza prigione vennero tolti ogni oggetti taglienti o contundenti che avrebbero potuto diciamo essere usati per per commettere atti inconsulti il fuoco veniva centellinato perché si temeva che lui potesse dare fuoco alla 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 sua stanza prigione ma nonostante ciò Carlos trovò modi per indursi una sorta di morte ciaicoschiana per dirla tutta una sorta di suicidio autoindotto infatti per tutti i mesi della sua prigionia Carlos avrebbe alternato i più folli eccessi che avrebbero minato il suo fisico oltre che la sua mente avrebbe alternato momenti in cui rifiutava il cibo per lasciarsi morire di fame a momenti in cui preso dai morsi della fame si ingozzava e di conseguenza vomitava il cibo che aveva mangiato poco prima ingoiava secchiate di acqua gelata si con i periodi più freddi si spogliava completamente e si aggrappava alle sbarre congelate della sua cella per indursi un'infreddatura e ammalarsi e questo e rifiutava di lavarsi viveva praticamente nei suoi escrementi e nella sua sporcizia ridotto quasi più a una bestia a un animale più che a un essere umano ormai e ormai la sua mente lo aveva abbandonato definitivamente e alla fine questi eccessi minarono definitivamente il suo fisico e dopo pochi mesi dalla sua prigionia iniziò il declino irrimediabile della sua salute e alla fine arriviamo a luglio del 1568 Carlos ha da poco compiuto 23 anni ormai indebolito nel fisico venne messo a letto e tenuto sempre più sotto stretta sorveglianza dal principe di eboli e dai soldati e dalle guardie che erano tenute alla sorveglianza del principe è totalmente impossibilitato incontrare chiunque del suo antico entourage o di quelli che magari potevano essere gli unici amici che aveva mai avuto se mai ne aveva avuti nella sua breve vita tenuti lontani da lui per evitare che alla corte si diffondessere troppo voci sullo stato bestiale in cui Don Carlos aveva trascinato gli ultimi giorni della sua vita persino la povera Elisabetta che all'epoca era incinta di un terzo figlio non poté andare quando seppe della della salute dello stato di salute del figliastro non poté andare a visitarlo come avrebbe voluto per cui rimase con le sue figlie le piccole sorelline di Carlos fuori le porte delle stanze a pregare perché Carlos guarisse preghiere che purtroppo non ebbero buon esito infatti il 24 luglio del 1568 all'età come vi ho detto di soli 24 anni Carlos minato ormai nel corpo e nella mente morì per un eccesso di febbre possiamo immaginare magari quanto poco fu pianto da una corte che lo aveva sempre solo visto come un peso come un possibile incubo nel caso fosse davvero succeduto al padre quindi possiamo immaginare il sollievo di tutta la corte dei nobili della corte e il dolore magari di quelle poche persone all'interno del suo nucleo familiare o del suo piccolo entourage che magari forse gli avevano davvero voluto bene o che se non gli avevano voluto bene magari avevano avuto pietà per questo povero giovane folle quindi pianto veramente da pochi forse probabilmente fu pianto sinceramente soltanto da Elisabetta da forse anche dalle sue sorelline e probabilmente anche da da Filippo che si vide tolto non solo l'unico erede maschio che aveva ma anche forse il suo unico figlio maschio il primo genito forse il suo più grande fallimento l'immagine proprio del suo fallimento come padre e come uomo e così cala il sipario sulla vita infelice di Carlos principe delle Asturie infante di Spagna pochi mesi dopo infatti pochi mesi dopo però un'altra tragedia colpì Filippo la morte di Elisabetta che in seguito a un aborto partorì una figlia nata morta e lei stessa morì per per le complicazioni derivate da questo da questo aborto e questo fu un ulteriore colpo nei confronti di Filippo e la morte a così breve distanza sia di Carlos che di Elisabetta avrebbe in seguito alimentato la leggenda romantica slash leggenda oscura che avrebbe visto i due sventurati Carlos ed Elisabetta un tempo promessi sposi e separati da decisioni politiche o dalla cupidigia di un sovrano vecchio e incapricciatosi della stessa fidanzata di suo figlio tanto da toglierla e sposarla lui stesso ma poi questa sorta d'amore mai sopito tra il piccolo principe e la giovane regina che sarebbe andato avanti anche dopo il matrimonio tra lei e il padre di lui e ciò sarebbe giunto poi alle orecchie del sovrano che inferocito imbestialito geloso di questo legame avrebbe fatto incarcerare con una falsa accusa di tradimento il figlio non tanto pazzo secondo questa leggenda e lo avrebbe addirittura fatto uccidere magari proprio per per mano di quello che era il guardiano di Carlos il principe di Eboli Rui Gomez magari tramite il veleno magari tramite strangolamento tramite un coltello non si sa e successivamente avrebbe fatto uccidere sempre per veleno magari anche la sua stessa sposa un tempo tanto desiderata e amata ma che in realtà lo aveva tradito con il suo stesso figlio figlio e magari qualcuno si sarebbe spinto più in l'area avrebbe detto che magari in realtà la figlia che Elisabetta portava in grembo magari non era di Filippo ma era di Carlos tutte leggende ragazzi tutto una leggenda nera che si sarebbe iscritta attorno alla figura di Filippo secondo Filippo che come già vi ho detto è una figura molto controversa tanto la rappresentazione del sovrano accorto uno che pondera le situazioni prima di agire uno che riflette prima di agire molto prudente appunto e dall'altra invece il sovrano oscuro bigotto cattolico amorale privo di sentimenti umani nei confronti dei suoi stessi figli e delle sue stesse consorti una sorta di risposta spagnola a Enrico VIII Tudor prova ne infatti va detto per dovere di cronaca che rimasto vedovo per la terza volta di Elisabetta Filippo rimasto senza eredi con solo due figlie femmine e visto si costretto comunque ad avere un erede maschio per portare avanti l'eredità che lui aveva avuto a sua volta da suo padre l'imperatore Carlo V si sarebbe sposato in quarte nozze tenetevi forte con Anna di Bohemia la promessa sposa di Carlos cugina di Carlos la nipote di Filippo Filippo che sposò la sua stessa nipote sono piccoli problemi di endogamia nati da un matrimonio tra parenti troppo stretti per questo vi avevo detto che ritorna l'endogamia con molti strascichi effetti devastanti sulla discendenza ragazzi manco a dirvelo vi prego vi consiglio soltanto i video appositi su fatti dalla già citata Ilaria Ciccarelli in arte Diana 92 4 vi lascio sempre il link in descrizione o nel pallino non mi ricordo come si possono mettere ma vabbè che ve lo dice pure ampiamente i problemi di questi matrimoni tra consanguine i effetti nefasti che ebbero sulle loro discendenze ma all'epoca purtroppo non si sapevano quali effetti avevano i matrimoni tra consanguine e quindi lasciamo rimescolare gli Asburgo in questa loro queste loro usanze e di conseguenza quindi ciò vedete quindi quanto basta Filippo alla fine non è che sposò Anna di Bohemia perché gli piaceva l'idea di sposarsi con una sua nipote o con una che era stata fidanzata con suo figlio no semplici questioni politiche semplici questioni dinastiche esigenze di avere un erede tenere strette le alleanze dell'impero e questo era la fine questo era il pensiero ponderante del prudente Filippo II ma attorno a lui come vi ho detto sarebbe sorta una leggenda nera che da una parte lo avrebbe rappresentato come l'esempio più evidente di un monarca assoluto quasi ai livelli della dittatura della dittatura e per contrasto Carlos avrebbe rappresentato sempre più prima forse non tanto nel cinquecento quanto più nel settecento l'immagine di questo principe illuminato questa voce del degli ideali illuministi del settecento questo principe bello e dannato e da laura romantica innamorato della della sua stessa matrigna che in altre circostanze avrebbe dovuto sposare lui stesso e che alla fine finisce per scontrarsi contro lo strapotere del padre contro cui combatte per annientare la sua dittatura nei confronti dei poveri popoli oppressi salvo poi soccombere allo strapotere della monarchia assoluta del padre che arriva a farlo uccidere o addirittura indurlo a una sorta di suicidio al fieriano e qui non posso non citare le fonti artistiche ovvero il più famoso Don Carlos di Schiller qui in un volume della Garzanti assieme agli altri due testi I Masnadieri e Maria Stuarda proprio qui è rappresentata una scena la prima scena del primo atto del Don Carlos con Carlos che si getta ai piedi della tanto amata Elisabetta di Valois testo molto affascinante molto importante all'interno del teatro in generale del teatro tedesco in particolare e poi per i nostri versanti abbiamo Filippo di Vittorio Alfieri questa è l'edizione dei libricini in miniatura quelli che uscivano in edicola anni e anni fa questo l'ho presi quando stavo in prima in prima media sì ragazzi stavo in prima media e volevo leggere Vittorio Alfieri sì mi avete già inquadrato come carattere e visto che mi trovo a parlare di fonti letterarie di cultura generale non posso non parlare anche di questo romanzo l'ultimo crociato di Louis de Vol romanzo incentrato sulla figura del già citato Don Giovanni d'Austria fratello bastardo di Filippo II qui Carlos compare come un personaggio secondario ma anche molto importante e qui comunque ci viene mostrato non come una figura eroica ma appunto come una figura di un pazzo ma filtrato dall'ottica del narratore della voce narrante ovvero Giovanni d'Austria si emerge la sua bruttezza il suo degrado ma anche la pietà che poteva suscitare una figura così misera e non mai amata veramente da nessuno prima di passare poi all'ultimo argomento di cultura generale e considerando che ho finito la lezione su Carlos parlerò un po' delle fonti bibliografiche purtroppo come vi ho detto dal momento che Carlos è più una figura secondaria in storia di personaggi principali è molto difficile trovare qualcosa su di lui specialmente qui in Italia non si trova quasi niente di storico su di lui a meno che uno non vada a cercare in altre fonti ad esempio se vogliamo cercarlo in una biografia di Filippo II io mi sono basato su quello che ho trovato nella biografia di Jeffrey Parker un solo re un solo impero su Filippo II per meglio capire anche il carattere di Filippo II al di là della leggenda nera sotta attorno a lui e anche i problemi che ebbe con Carlos Carlos che fu quasi il suo fallimento il suo problema e la sua spina nel cuore poi per altri testi non posso non citare Giovanna la pazza di Edgar da Ferri che ha un prologo e un epilogo molto romanzeschi in cui Filippo II cerca di riflettere sulla componente della pazia nel ramo spagnolo della sua famiglia e dedica le ultime pagine proprio alla figura di suo figlio Carlos c'è poi un accenno alla condotta stravagante una sorta di biografia di una sola pagina di Don Carlos nella Maria Stewart di Antonia Fraser dove si parla dell'idea che aveva Maria Stewart di sposare Don Carlos appunto per avere un appoggio cattolico nella sua presa di potere nel regno di Scozia e infine questo è un testo piuttosto secondo me misconosciuto quasi del tutto introvabile a meno che non viviate a Castiglione dell'Estiviere o comunque nel Mantovano Luigi Gonzaga sempre di Edgarda Ferri la storia di San Luigi Gonzaga santo patrono della gioventù cattolica e anche mio santo patrono visto che io porto il suo nome che c'entra Luigi Gonzaga con Don Carlos c'entra perché i suoi genitori Ferrante Gonzaga e Marta Tana di Santena vissero alla corte di Filippo II e anzi Marta Tana di Santena la madre di San Luigi Gonzaga fu amica e dama di compagnia alla corte di Spagna di Elisabetta di Valois e testimone della vicenda di Don Carlos che qui viene raccontata in forma molto romanzesca qui viene anche approcciato a differenza del testo di Giovanna La Pazza dove comunque viene mostrato un ritratto di Filippo molto più umano qui Filippo viene rappresentato secondo gli aspetti della sua leggenda nera più che altro volevo dirlo questo libro ve lo consiglio perché vabbè al di là di Don Carlos al di là del concetto di Don Carlos perché mi piace molto la figura del santo di San Luigi Gonzaga che è una figura piuttosto moderna se calata nell'ottica del Cinquecento dove c'è il vizio la virtù i nobili possono avere tutto e di più e lui invece ha rinunciato ad avere tutto vabbè esco troppo fuori contesto magari vi parlerò magari di una lezione di storia anche di Luigi Gonzaga tanto ve l'ho detto ragazzi io gli argomenti me li caccio fuori dal cilindro come va va quindi ve l'ho detto questo è un testo penso introvabile al momento quindi non penso nemmeno che ci sarà un link Amazon disponibile per trovarlo a meno che non andiate a rivissare su le bancarelle o come vi ho detto non vi troviate nel Mantovano o a Castiglione delle Stiviere dove appunto io ho trovato questo libro ma vabbè storia vissuta e con questo si conclude questa mia lezione di storia e vorrei concluderlo con un'ultima domanda con la quale mi congedo e con la quale creo il collegamento per la prossima lezione di storia da dove nacquero le leggende che avrebbero reso Filippo un padre disamorato e un re malvagio e Carlos un principe eroico e dal destino tragico paradossalmente proprio da una persona molto 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 vicina a Filippo e proprio da uno di queste personalità da due di queste personalità in particolare tratterò nel prossimo video non vi anticipo nulla vi dico soltanto che sarà una storia molto avventurosa molto da romanzo un po' in alcuni punti con risvolti comici in altri con dei risvolti tipo telenovelas brasiliana il segreto proprio ragazzi io già sto morendo dalle risate e avranno come protagonisti una delle più belle donne della corte spagnola ma che era una donna senza un occhio e un segretario particolare di Filippo qui mi fermo e beh prima di concludere ragazzi volevo farvi un accenno al teatro ma penso che vista anche un po' anche la durata del video mi potrei fermare e tenere questa versione di cultura generale ovvero un altro testo teatrale più moderno del Don Carlos che appunto mi ha fatto conoscere Don Carlos mi ci ha fatto affezionare mi ha fatto empatizzare con lui lo terrò per il terzo video di questa trilogia ovvero quella inerente al teatro nel quale poi vi farò una piccola excursus una piccola introduzione e poi ne parleremo magari vi inizierò già a fare un accenno nel prossimo video anche perché parlerò di due personaggi che sono comunque presenti in questo testo teatrale di Don Carlos oggi praticamente poco conosciuto quindi praticamente sconosciuto qui in Italia e portato qui in Italia soltanto grazie a una riduzione di un laboratorio teatrale che ho fatto qui nel mio paesino di provincia ovvero Offscenes di Karst Wudstra tradotto in italiano con scene di corte un Don Carlos alternativo fa folle e omosessuale poi però ve ne parlerò vi darò magari la mia visione recitata del mio Don Carlos perché è il primo ruolo da protagonista che portai a teatro e infatti io sono stato Don Carlos quel Don Carlos a teatro adesso avete capito perché mi interessava molto come personaggio e a mio modo ci sono in maniera sadica affezionato bene ma ne parlerò in seguito nei prossimi due video quindi il video si conclude qui spero che vi sia piaciuto lasciatemi un like se così è stato commentate e ditemi la vostra se anche voi conoscevate Carlos cosa ne sapevate di lui se avete qualcosa qualche argomento in più da suggerirmi su questa sua biografia piuttosto lacunosa iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video e vedere come prosegue questa piccola trilogia iscrivetevi al mio canale quindi mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao ciao